Mourinho cos'è che ha detto a Portoghese? O chi ce l'aveva? È stata ovviamente una provocazione per quello che è successo la settimana per le dichiarazioni che ha fatto presso non solo la FGC L'arbitro L'arbitro su Berardi ha un po' alzato i toni, ha provocato un po' la partita se vogliamo alzando l'attenzione secondo me soprattutto dei suoi giocatori perché i giocatori erano non li ho mai visti così incazzati così convinti di voler vincere a tutti i costi una partita quindi il suo intento era evidentemente questo non so quanto sia stato giusto o no perché comunque attaccare Berardi quello che potrebbe succedere con l'arbitro non lo so però il suo intento è stato questo e il parlare in portoghese poi magari mi risponderà e mi dirà che non è così e sarà un po' G tu che vivi a Roma ma dopo 20 anni ancora fare queste scenate serve ancora per far parlare di sé non far parlare della squadra ma secondo me lui lo conosciamo tutti quanti ormai un modo per alzare l'attenzione perché vede una squadra che soprattutto quando va fuori casa è debole e non sa più cosa fare per alzare l'attenzione ha fatto questa cosa poi il risultato lo ha ripagato però io ho visto una Roma che continua a crescere una Roma che ha un calcio spettacolare no però è una squadra la Roma è una squadra difficile da affrontare difficile da fargli gol e anche a Sassuolo è vero che ha vinto quando era 11 contro 10 ma anche 10 contro 10 ha attaccato tantissimo ha fatto un gol cioè ha fatto un po' perardi ha visto però l'ha vista la partita comunque il secondo tempo anche 11 contro 11 la Roma ha spinto è andata di là a me non è dispiaciuta la Roma rispetto a tante altre prestazioni Di Bala e Lucaio stanno in grandissima forma secondo me stanno crescendo tantissimo sta rientrando Pellegrini comunque la Roma Christensen sta uscendo molto bene dietro comunque ancora manca Smalling la Roma può lottare per il quarto posto per la rosa che c'è oggi è quarta oggi è quarta perché il Napoli ha 24 ma la Roma se non sbaglio è quarta l'Atalanta ha perso la Lazio sta lontana però c'è anche Lukaku cazzo che c'è e Di Bala che sono devastanti sono giocatori più sono una coppia che si completa meraviglia ragazzi purtroppo non riesce ad avere continuità perché poi vedi in Coppa quello che è successo anche per l'ennesima volta ha attaccato tutti i giocatori per cercare di alzare le antenne comunque ha fatto una bruttissima prestazione ogni volta va fuori casa ci perde sempre poi ha fatto nell'ultima otto partite la Roma anche appena se ha vittoria è vero che segna l'ultimo è vero che non è un caso come abbiamo detto però è una squadra che non molla poi in casa quando vai a giocare se uno non va allo stadio a Roma da tre anni e si presenta all'Olimpico senza sapere cosa sta succedendo dice ma la Roma sta vincendo nello scudetto cioè sembra sembra che stai vincendo nello scudetto cioè sei sesto settimo ottavo cioè c'è un'atmosfera incredibile poi vai fuori non so per quale motivo Marco ha giocato a Roma sa di cosa sto parlando ma quello che c'è oggi è molto di più di quando giocavi te o quando giocavo io è una cosa incredibile è lo stadio sempre pieno soldato da tre anni ma questo è merito comunque di allenatore beh ragazzi ma l'allenatore ha fatto una finale di Coppa di Europa League persa e l'altra di Conference League vinta cioè di cosa vogliamo parlare niente ci vuol dire no ma io sono comunque un grande riportato i trofei a Roma è un grande è un grande comunque che va sempre è comunque ragazzi io anche quando era l'Inter che in teoria non avrei dovuto sopportarlo era comunque a me piace era comunque delle conferenze stampa incredibili però è uno che comunque lo guardi e non può non può cioè non può alla fine non starti simpatico no ma allora cioè lui ti racconto una cosa sai sono stato a Tirana che adesso mi sono rimesso non ci sono più no quando è venuta la Roma poi quando quando la Roma è andata a giocare a Tirana gli ho portato la maglietta della Dinamo Tirana era la prima maglia l'ho portata a lui appena entro negli spogliatori mi dice tu fai l'attaccante cioè per dire fa comunicazione anche con me gli serviva l'attaccante non lo prendeva e mi dice tu sei attaccante mi ha detto mi sei pure qua cazzo no no simpaticissimo tu se lo vivi io non lo conosco benissimo se lo vivi e ci parli penso è una persona eccezionale poi sul fatto che si possa giocare meglio possa migliorare di più i giocatori questo sicuramente è fuori discussione però il suo carisma il suo modo di lavorare quello che ha fatto in questi anni di cosa parliamo non possiamo parlare se non c'è lui a Roma Paredes non va a Roma Di Bala non va a Roma Lukaku non va a Roma questi sono giocatori forti lui è una persona è una star internazionale nel suo nel suo lavoro io con lui a Roma io mi aspetto questi grandi giocatori cioè quelli che hanno che non giocano non lo so uno non gioca nel Bayern mi aspetto che vada a Roma perché comunque perché c'è lui aspetta vuoi fare lo stacchetto? no 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 voglio cantare Gigi la Roma vi faccio una domanda se la Roma non arriva in Champions è un fallimento? non lo so dipende di quanto hanno speso credo che però i friendly come si chiamano? i friendly i friendly i friendly hanno speso tanto secondo me secondo me dipende quello che succede in Euroleague come l'hanno scorto in Europa League? certo perché se tu in conference in Euroleague andavi male e non bene come ha fatto questi la Roma ha fatto bello di campionato secondo me ha fatto male sesto posto negli anni passati sesto sesto non mi ricordo sto sbagliando magari però secondo me se in Euroleague non va avanti e arriva quinta sesta secondo me e però ad oggi non è quarta quindi si lascia stare che bordi oggi ieri io lo trattavo che bordi l'altra fra un mese riparliamo di un'altra cosa stiamo dicendo per caso a fine anno però secondo me se la gioca per il quarto posto come no ci deve provare di tutti però dico a me la parola fallimento non mi piace perché comunque è forte è una parola è una parola forte però per me la Roma deve giocarsi assolutamente quella posizione lì proprio perché siamo sempre lì dobbiamo fare il gioco il gioco dei nomi fai il gioco dei nomi ma chi ce l'ha Di Balla e Lukaku ma Di Balla e Lukaku è una coppia è una coppia che non puoi non arrivare nelle prime quattro con Di Balla e Lukaku però ascolta ascolta un attimo però Mila Inter Juve e Napoli partiamo da agosto no oggi queste quattro squadre sono più forti ho sbaglio io io ti dico io ti dico sì ti dico sì però secondo me con Di Balla e Lukaku con Paredes e con altri giocatori che possiamo dirne altre due o tre di giocatori importanti per me la Roma deve giocarsi assolutamente il quarto posto poi non ci arriva non arriva quarta arriva quinta non è un fallimento quello voglio dire perché c'è la Juve perché c'è l'Inter no però il discorso è diverso però ascolta perché se la Juventus abbiamo detto prima c'è Milic non c'è Kinn c'è un altro a Roma se non c'è Di Balla se non c'è Luca è dura sono d'accordo con te sì c'è Bello per carità Belotti che ha iniziato molto bene Abram Abram no Abram non c'è sì però dico hanno anche uno come lui sì quando rientrerà però secondo me alla Roma mancano due o tre giocatori e tante volte ne sono mancati cinque o sei addirittura è dura secondo me è quella la riferenza infatti è quello che io ho voluto dire non è un fallimento perché i motivi sono quelli che stai elencando te adesso ed è vero perché se un conto è se giocano Di Balla e Lukaku un conto è se tu non hai Di Balla e Lukaku è normale però dico quindi non è un fallimento secondo me però la Roma deve assolutamente doversi giocare il quarto posto almeno in questo campionato con la Rosa che ha e i giocatori che ha perché comunque anche Belotti non mi puoi dire che è un giocatore che non può essere un giocatore che dà qualcosa deve far meglio l'anno scorso sta facendo meglio l'anno scorso anche l'altro anno se Bobo avessi fatto la stessa domanda l'anno scorso la Roma è arrivata sesta con la Juventus quanti punti gli hanno tolto l'Inter che ha fatto un campionato che non esiste non è riuscito ad arrivare quarta poi per fortuna è arrivata in finale di Euroleague e quindi è stata una grandissima annata ma se non arriva in Euroleague non so adesso per come li ha abituati in finale finale se arriva ai quarti va fuori sembra che ha fatto chissà cosa che è normale ci può stare va fuori ai quarti e in campionato arrivi quinto o sesto che facciamo sei arrivato come l'anno scorso quindi la domanda sua ci sta e come ma la Roma secondo me nell'undici titolare non è meno forte delle altre quando parlo di Milan Napoli Inter U è perché nei venti della Rosa la Roma non ci sta la verità è meno forte rispetto a queste rispetto a queste grazie a tutti